Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora video per Halloween, spero che si sia capito, ho deciso di trasformarmi in una sposa dark, ho creato io completamente il mio outfit, non ho comprato praticamente niente a parte il tulle, in questo video vi faccio vedere ovviamente il trucco, l'outfit vestito e l'acconciatura che è molto semplice, vi posso consigliare di comprare magari i guantini in tulle, pizzo nero, qualcosa del genere, almeno fino all'avambraccio, o qualcosa così, o anche quelle a mezza manina, o interi o smezzati, io vedo se, oggi io vorrei scendere, se li trovo me li compro, magari se riuscite ai negoziati tipo i cinesi sono tutti 50 centesimi di comprare i fiori neri, io non li ho trovati, li sto cercando da un bel po', li ho trovati viola, viola anche molto scuro, scusate a patirino, viola anche molto scuro, ma niente, ultimo consiglino, smalto dovrebbe andare nero, io avevo questo qua blu messo sabato, quindi non l'ho ancora tolto, e ora che ci penso io non c'è uno smaltino nero, mi è finito quello che avevo e non ho ancora comprato lo smaltino nero, perché aspetta un altro po', altrimenti poi me lo compro di qualche altra marca, qualche altro consiglio? Un'altra cosina, se vi interessa ho fatto altri due video sul genere, uno su Mortizia e l'altro era su il corvo al femminile, vi lascio giù nell'info box e nelle informazioni che appaiono sul video, vi mando un grosso bacio, e se vi va, seguite il video, ciao! Allora, come prima cosa vado a mettere la base per il fondotinta, questa è della Essence della linea All About Matte, è quella per controllare le lucidità, ma in più fa reggere il fondotinta tutta la serata, anche se andate a ballare, o semplicemente come me, passate la serata in compagnia di amici, visto che è un bel sabato sera, e andate per locali, ora con un pennello a setore sintetica è molto fitto, e un correttore rosa, ho usato un altro dito, un correttore rosa, vado a coprire le occhiaie, uso un pennello perché ovviamente la coprenza è molto più alta, e voglio una pelle molto uniforme, molto perfetta, anche se questo pennello è un po' gigantesco per il contorno, occhi, ma va bene lo stesso, inizio a lavorare prima con il pennello e poi sistemo il tutto con il vichino, vado un po' più precisa qui, ora con un correttore verde e un pennello piccolo di precisione vado a correggere i punti in cui ho delle macchioline rosse qua, un'altra ce l'ho sul sopracciglio, e così via. Ora, sempre con il pennello di prima e il correttore che uso in questo momento, che è quello della Yves Rocher Pure Life, no, Pure Light, no, Pure Life, metto il fondo tinta, ovviamente. Poi vado a mettere il correttore color carne sulle imperfezioni che il fondo non mi ha coperto, tipo ciò, il classico brufoletto da mese, e qualche altra imperfezione di qua e di là. Ora vado a prendere l'illuminante e lo metto sugli zigomi, ok, e ne metto un po' anche sull'arco di cupido. Cipria, questa della Maybelline Affiniton, che ha il buchetto, quindi sta per finire e fra un po' me ne devo comprare anche un'altra, e l'applico con un pennellone. Ultimo passaggio, faccio un po' di contouring con una terra matte e utilizzo un pennello di questi qua che si trovano nelle trussettine, perché è compatto ma è piccolino e mi aiuta a creare proprio una bella strisciata, ovviamente che poi vado a sfumare, però è molto più preciso rispetto ai classici pennelloni per contouring, non so, immagino un pennello obliqui, tipo tagliati obliqui, o comunque pennellini del genere. Questo mi aiuta a creare la sfumatura e il contouring molto più preciso. questo è un trucco per un'occasione un po' particolare, come Halloween, non c'è bisogno di... si può anche un pochino esagerare. Ok, pensiamo al trucco occhi. Inizio con l'eye primer, il primer occhi della Debbie, su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. poi con una matita bianca opaca vado a segnare il punto più alto sotto sopracciglio per alzare otticamente ancora di più il sopracciglio e poi con un color tipo miele e l'applicatorino vado sulla palpebra mobile. Preferisco il color miele rispetto a un beige un po' più freddo perché fa un leggero contrasto con i miei occhi. Questo comunque è un trucco che... sono trucchi che utilizzo anche normalmente. facendo questo contrasto me li esalta ancora di più. Ora con... scusate se vi acceco... questo pulviscolo che è rimasto di questo marrone che adoro per la piega è un pennello da sfumatura un pochino sfarco. Lo passo nella piega per ricreare la piega naturale dell'occhio. semplicemente intingo il pennello all'interno, tolgo l'eccesso e vado nella mia piega naturale a fare questo lavoro avanti e indietro di sfumatura per iniziare a creare una piega di palpebra. e con un pennello sempre questi di applicazione riprendo il marrone perché non sono riuscita a farlo con il pennello da sfumatura perché sennò mi sporca tutta la palpebra. unisco e tiro verso su in modo da liftare ancora un pochino l'occhio. e con un pennello un pochino più di precisione sempre lo stesso marrone vado proprio all'interno della piega nella parte esterna per aumentare il contrasto e dare ancora più di tridimensionalità all'occhio sfumo portando un pochino verso l'esterno così e come ultimo passaggio per la parte di sopra con gli ombretti con una polvere, un ombretto chiaro e un pennello morbido vado a mettere un punto luce sotto il sopracciglio e a sfumare ancora un altro po' a questo punto prendo una matita nera mi è rimasto un mozzicone di matita nera e segno le ciglia inferiori e le lime interne e ora vado a fissare tutta la matita con un ombretto nero opaco e un piccolo pennello a questo punto vado a mettere l'eyeliner con l'eyeliner come particolarità vado a fare bene gli angoli e a tirare una bella linguetta per tutto il resto è una linea molto normale per poter fare meglio la linguetta tiro leggermente il naso e ovviamente non mi spingo più di tanto però tirando mi si tira leggermente la pelle e riesco a creare bene la puntina ora, prima di... devo mettere le ciglia finte però devo aspettare che la line si asciughi quindi vado a farmi le sopracciglia e con la matita riempio gli eventuali buchetti ora con la polvere più scura della essence do una definizione un pochettino più grafica alle mie sopracciglia e praticamente vado a segnare la parte più alta ovviamente deve essere una cosa molto lieve e leggera mi allungo anche un pochino più sull'esterno e qua sotto le rendo più nette e grafiche sfumando comunque tutto insieme deve essere una percezione non una linea netta e a questo punto mi diverto con le meze ciglia che ho tagliato io della essence speriamo che le riesco a mettere le metto con la stessa colla che ho trovato all'interno perchè non mi da nessunissima reazione non perdo le ciglia mie e quelle vinte ok, come mascara uso il top coat della Kiko volume e definizione sulle labbra, visto che ormai il trucco è molto semplice e portabile mettiamo il lip pencil della essence quello nero se vi siete perse questo lip pencil e volete qualcosa di particolare per feste, Halloween, carnevale eccetera ho visto che da Kiko ora hanno messo tutta una linea nuova di rossetti non so se sono in linea permanente o sono un'edizione limitata ma c'è anche un bellissimo nero che se non avevo questo sinceramente me lo compravo ok, il trucco è finito ora dobbiamo pensare al parrucco ok, per i capelli ho pensato a un raccolto tenuto fermo da questo aggelgino che non è nient'altro che un doppio ferrettino con tutto questo gioco di perline scure prima di tutto vado a fissare con delle forcine la parte superiore per dare un po' di volume quindi raccolgo questi li porto leggermente in avanti e li fermo con dei semplici ferrettini mi sono tirata via anche un po' di rossetto per il restante faccio una coda più o meno medio alta e costruisco un piccolo chignon così questo aggelgino funziona si aggancia un lato e poi l'altro vi faccio vedere prendo un lato lo incastro nei capelli prendo l'altro tiro leggermente e vado dall'altro lato sistemano un po' le perline ok allora per quanto riguarda il pezzo di sopra ho messo una gonna praticamente di velluto nero ho preso una gonna di velluto nero e ci ho cucito tutti i tulli a strisce in modo da creare l'effetto di un vestito più gonfio un pochino da sposa per la parte di sopra ho ritagliato un'altra strisciolona di tulle nero saranno più o meno quasi due metri e mezzo per una trentina o quarantina di centimetri non ricordo perché non l'ho tagliata di recente e la vado ad accomodare sulle spalle allora lo appoggio praticamente sul collo in modo che i due lembi siano uguali faccio passare sotto le braccia dietro incrocio più o meno l'altezza delle scapole e lo ripasso avanti ora lo blocco in modo un po' così però l'avevo immaginato fermato anche con una bella spilla ah che ce l'ho aspettate un attimo magari tagliati questi due lembi lunghi e fermato con una spilla del genere che è molto carina vi faccio vedere come viene considerate che questo lo devo tagliare ancora mi ha dato per buona eh ditemi la verità ditemi la verità ok invece come velo se no che sposa d'arc siamo ho preso un altro tulle un unesimo tulle questa volta l'ho tenuto quadrato più o meno un metro che un metro e lo prendo all'incrocio delle diagonali e lo vado a sistemare praticamente all'interno dell'acconciatura con dei ferretti ora vi faccio vedere ora vi faccio vedere allora praticamente lo vado a sistemare al tiglio dentro l'acconciatura più o meno sotto allo chignon si potrebbe mettere anche sopra però voglio che si veda il cosino che ho messo e lo fermo con dei ferretti dove sei? ok li spingo verso sopra da sotto verso sopra ecco qua ok come orecchie ho deciso di indossare questi neri a bottoncino grandi per completare il look ok non so quanto si vede ma questo è l'outfit completo per il mio prossimo halloween yeah come scarpio ho deciso di indossare queste simile decolletè con il tacco e la para lucida con questo non so come chiamano stricciolino sul collo del piede queste le compie l'anno scorso per la mia laurea non sono comodissime come speravo sinceramente ok video finito spero che vi sia piaciuto che abbiate preso qualche spunto qua e la per il vostro troie stilento per halloween io vi mando un grosso bacio e nulla ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba ciao 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 ciao